L'amministrazione comunale di Canigatti sta lavorando all'allestimento del cartellone delle manifestazioni estive 2016. L'assessore alla cultura e allo spettacolo, Katia Farrauto, assieme al sindaco e agli uffici dell'ente, sta cercando di destinare un budget per l'allestimento del programma, ma le casse dell'ente sono al verde e quindi serve una mano d'aiuto da parte dei privati, delle associazioni e dei club service. A questo scopo è stato organizzato un incontro a Palazzo Stella, che ha visto la partecipazione di un utrito gruppo di persone. Stiamo aspettando che le associazioni presentino le loro programmazioni e quindi poi valuteremo queste proposte e siccome abbiamo pronunciato che non abbiamo strumenti perché il bilancio non è stato ancora approvato, quindi ancora non abbiamo un capitolo di spesa che può essere preventivato, intanto accogliamo queste richieste, le analizziamo e vediamo di inserire in un contesto che copra luglio e agosto. Stiamo cercando anche di contattare quanti sponsor avranno la possibilità e la voglia di incrementare questa estate canicattinese e per il momento non abbiamo una manifestazione pronta, impacchettata, ancora ci dobbiamo inserire e insediare e quindi ci dovete dare solo il tempo di analizzare e esaminare. Tutto quello che comunque si potrà fare verrà programmato. L'auspicio è quello che questa nuova amministrazione possa iniziare a programmare per tempo le iniziative. Questa volta c'è l'alibi dell'arco di tempo troppo breve tra quando la giunta si è insediata e l'inizio dell'estate. In ogni caso basta solo buona volontà e inventiva e il tempo si trova perché in Sicilia, a Canicattia anche, l'estate per fortuna dura fino ad ottobre inoltrato. C'è tempo quindi, tutto il tempo.